E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avrete detto dal titolo andremo a vedere come funziona il nuovo metodo di drop della stagione degli eletti Prima di iniziare però vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e riattivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita Detto questo iniziamo Trovandoci per la prima volta nell'elm, la nuova zona operativa da cui possiamo accedere al convertitore prismatico e al tavolo da guerra La nuova meccanica dei drop non ci è sembrata chiarissima In questo video quindi vogliamo fare un resoconto generale per spiegarvi come ottenere un drop specifico utilizzando il martello da guerra e gli engrammi ambrosi Iniziamo quindi col dire che per poter entrare in questa meccanica dovrete aver completato le due quest line iniziali che vi faranno ottenere il martello da guerra e la lente prismatica Saranno proprio questi due oggetti il fulcro della scelta del drop Tutto parte dal martello della prova che per chi se lo ricorda funziona molto similmente al calice della stagione dell'opulenza Completando le attività in giro per il sistema solare infatti potremo ottenere dell'oro cabal, moneta di scambio per l'attivazione del martello Mi raccomando fate attenzione perché di base il martello ha una capienza di 42 pezzi d'oro E se competerete un'attività che normalmente vi dropperebbe più oro di quanto potete portarne il restante andrà perso Dalle attività che abbiamo già fatto posso dirvi che i calano a 3 eroe danno 14 pezzi mentre una partita incrogevano da 8 Ottenuti quindi 14 pezzi potremo caricare il martello della prova che ci servirà per distruggere la cassa del drop alla fine dei campi di battaglia Con il martello caricato quindi completiamo un qualsiasi campo di battaglia startabile dalla playlist dell'avanguardia o direttamente dal pianeta in questione Per poi distruggere una delle 3 casse finali e ottenere un drop stagionale A questo punto potremo notare che il martello avrà acquisito una carica Queste ci serviranno proprio per convertire gli engrammi ombrosi in engrammi concentrati E guidare quindi il più possibile il drop da ricevere Raggiungendo quindi il convertitore all'elm potremmo accedere alla scelta degli engrammi concentrati Che è però diversa da quella che conoscevamo Infatti per sbloccare un determinato tipo di drop ci verranno richieste un tot di kill specifiche Per esempio per sbloccare l'engramma che ci droppa arco o cecchino dovremmo aver fatto appunto kill con arco e o cecchino in giro per il sistema solare Inoltre in base al livello di concentrazione degli engrammi Oltre ad aumentare il numero di kill richiesto aumenteranno anche le cariche necessarie alla conversione Partendo da 1 per gli engrammi stagionali di livello 1, 3 per il livello 2 e 5 per il livello 3 Tuttavia c'è un modo per velocizzare tutto il processo Ovvero potenziare il martello attraverso il tavolo da guerra Qui infatti potremmo accedere a tutti i miglioramenti per il martello In maniera molto simile a quelli del vecchio convertitore prismatico Solo con qualche differenza Innanzitutto i miglioramenti del martello dovranno essere fatti in un ordine ben preciso E non potremo più scegliere quale sbloccare prima Inoltre questi saranno attuabili solo ogni volta che saliremo di grado al tavolo di guerra Ma come fare? Aprendo il navigatore nella sezione imprese troveremo le sfide stagionali Queste sono una serie di obiettivi aggiornati settimanalmente Che ci permetteranno di ottenere polvere luminosa Pagine di lore di Kayatol Ma ben più importante reputazione al tavolo In particolare questa settimana dovremmo ottenere 100 pezzi d'oro E distruggere 5 forsieri con il martello Convertendo di conseguenza 5 ingrammi concentrati Quindi questa è la meccanica che ci accompagnerà per tutta la stagione A nostro parere ben strutturata per funzionalità e drop Anche se forse i campi di battaglia sono un po' lunghetti Detto questo ragazzi io spero che il video sia stato utile Sappiate che se avete qualsiasi dubbio potete tranquillamente chiedere nei commenti Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto E di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita Detto questo noi ci vediamo alla prossima Ciao Siamo la tua salvezza